La regione Abruzzo ha messo la cultura al centro della propria attività perché riteniamo che la cultura sia portatrice di sviluppo, sia portatrice di benessere e soprattutto ci dia un'identità che alla fine rafforza il nostro essere abruzzesi. Questo premio D'Angio è arrivato ormai alla 17esima edizione, ha visto negli anni premiare personalità eccellenti, ha visto premiare anche primari attori dello sviluppo sia culturale ma anche economico del nostro Abruzzo. Sosteniamo con forza questa manifestazione che rientra nell'ambito tra le manifestazioni che vengono regolamentate dalla nuova legge della cultura che abbiamo approvato da poco in regione. C'era necessità di fare questo perché troppe iniziative spurie rischiano poi di far perdere l'obiettivo principe di ogni azione legislativa. Invece adesso con questa regolamentazione abbiamo la forza e gli strumenti per portare avanti quello che davvero può portare l'ustro all'Abruzzo.